blu falrecca per favore devi leccare il momento in cui vedi il macellaio ma che livello sono blu di apix leggimi in testa che livello sono io leggimi in testa ma leggiti in testa eh non posso che livello sono io? sei non puoi non sono sei io sono a livello 9 ma tu sei scarso ma io non gioco mai io non gioco da un mese io gioco vado al centro io eh si le scuse dai no non andare al centro io vado al centro i blog glitch mi arrabbano no non andare al centro non andare al centro vai a destra o sinistra non andare verso il centro non andare verso il centro ok già ci sono arrivati i gialli vabbè io ci vado allo stesso ma tu intendi quel centro forse eri a vedere confuse sulla definizione di centro oh chi arriva adesso ti uccide guarda la double kill forse forse double forse no ok ok vai lascia uh triple mezzo cuore 5 zucche ragazzi sono all'isola dei diamanti tre gialli e noi senza piangere e non ho blocchi e muore no blu blu tabbi blocchi arrivano tieni luce no ti voglio bene forse anch'io dipende di giorno è martedì ah non ti voglio bene allora ho tre diamanti e non ho paura di usarli io si avrei tanta paura se fossi inter qualcuno dai faccio bello bello pizza trap no aspetto un altro per fare la forgia ok mi sono fatto l'armor in ferro poi faccio questo faccio questo qualcuno ti troppa io ci sono in pietra arrediti troppo mi manca uno in realtà non so dove ok blu aspetta sta arrivando con tanta roba un corno stai arrivando ci sono blu tieni duro l'hai rotta certo tieni duro blu fai ragazzi voglio l'ultima grazie vi faccio killare guarda voglio la zucca voglio la zucca voglio la zucca sì raga rimane l'ultimo adesso lo killo io 4 4 4 osmeraldi raga gg raga gg già perché mi si è tolta ok non mi si è tolta ho aspettato un po' sta killarla lui ci macella io guardo lol bravo promuovì il tuo canale di macella mdr3 grazie oh mio dio lol oh mio dio quindi non ti interessa dei guadagni ma tu se mi riprende l'attivante tua madre ti picchia se ti serve poter alle mamme ecco bravo dico blocchi mezzo cuore vai gli finisco il ponte al centro sì io non sono qui dentro giuro sto spaccando a mano la handstone madonna mi ha fatto finire la vita li ho aperti anch'io ho aperto i russi iiiieeeh lo prendo nooo io questo mi era perché ci devo morire io perché sei scarciate le zucche lì per cortesia e manca un 500 ah ecco ma alla fine quanto ti dà cioè cosa ti dà alla fine io keep 9 points sono la cosa più rara di IPX non è vero la vita fa schifo allora lascio migliere le zucche vai ho fatto invisibilità e speed ora vado a schillare un team prima però mi faccio secondo me è meglio farmi un po' e me non frega niente di vincere in questo momento vorrei solo le zucche quindi se non me ne lasciate ne manco una giuro che vi faccio perdere faccio il ponte fino dai rossi faccio il ponte dritto fino a rossi ci banna ci banna a buttare ecco questo è bullismo questo è bullismo non lo so è ancora chiuso lì dentro da prima ma no due tre ok io vado a che ma i verdi no no sono tutti via sono tutti via no sì bello no soltanto due ok cosa cosa non si è rotto ma serio ma là io vado da gialli che non ci sono cosa che è successo perché ah grazie lol 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 no ho trovato qua addio devo arrivare aspetta addio cosa è successo lol lol li ho trovati con la appena in tempo li ho trovati con la tenet raga ho messo la tenet sul ponte sono caduti tutti lol guarda guarda ahahah questo clip dovevo mandare a Tamideo basta basta anch'io mando tutto a Tamideo basta lo mando lo mando guarda blu che prende fuoco dai fai l'ultimo i G-Macellaio mi devono rispettare soltanto per il nome ma te l'ha messo Raffaele sì ma a me no a me ne frega tanto tra un mese per un mese sì ma che mi frega perché tu eri entrato nel contest lol quale contest no si ha fatto un contest fake dove tu metti dentro i credenziali ma in realtà non è così lui vedeva chi entra e rubava le password esatto ma il bello è che l'ha messo dai a tutti i miei certo è un hacker questa è truffa non è truffa perché in teoria se tu come ti entro le cose non ci entrano niente sei tu stupido averle messe dentro io non ti do il consenso mi mancava un blocco ma che consenso dal momento che tu metti le credenziali puoi fare quello che vuole tu metti boom una zucca per blu non devi mai mettere dentro sto arrivando a prenderlo due tre zucche di blu per blu sto arrivando troppo sono qua su qui io ho avuto tutto questo è tutto l'amore che provo per te grazie ma si dai tanto agi e vabbè da solo so uccidere il femmini prende non si infama altrimenti in blu non monetizza i video vai dopo non diventa più ricco e quindi non può fare più video su youtube dai 25 ho quattro smeraldi e non ho paura di usarli fai un ponte una zucca fai l'uovo ciao facciamo presto mi fa trollare con blu fai il troll vado a trollare datemi oro oro tieni tieni oro troppa è tu dammi ferro no non avevo nulla la vita è brutta quella di blu no no dai ti voglio bene qualcosa cosa quanta roba quanta lagata questo tizio zucche troppa vabbè raga adesso vado a pazzare senza piccola troppa sti zucche vedo che ce l'hai in mano dai i rossi devono scattare family friendly con la spada in diamante poi li ho uccisi tutti go ho tre zucche per blu oddio non saranno troppe oddio hanno fatto il ponte per correre più veloci quando sono intelligenti questo lol io sono oggi le tue zucche le tue zucche blu vado dopo vado un po' di letto vieni dei verdi vieni dei verdi sono fatti io sono dei verdi aiuto aiuto no cosa oddio le mie ponte raga non mi prendi oddio ce l'ho sotto raga ce l'ho sotto no 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 mi prendi raga cosa sta succedendo la vita è brutta quella di blu continuo vado a uccidere quello con l'arca adesso vai vai ok lo butto giù così dai sono morto allora comincia ad avere l'invisibilità la speed aspetta chi sta andando dei rossi di voi io sto andando dei verdi ma evolution tu no non esiste salta vai 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 l'ultimo comunque blu tu dai green alla fine io si aiuto ma pensavo avessero ancora a letto io ma evolution va bene io non ho parole no si scappo ho aranciato l'erossi pensano no ho solo una parola zucca blu mi hai abbandonato haha raga vado dai dai green veloce tutti quanti dai green no what quello è potente ma i yellow i gialli in tutto ciò e sto andando da loro infatti se no sti qua si stanno camperando non so io se sono nobbi o meno dimmelo tu ho perso tipo 5 cuori a casa ma va bene oh distraimeli buttalo giù vai salta e buttalo ma fk dai non vale ti sposta ti sposta ti oh va bene moriamo insieme sei proprio stupido però e lasciatelo dire cioè sei proprio stupido dico solo una cosa io l'avevo detto che era forte sto old guard era meglio voleva rubarmi il letto dai ma era un letto e infatti mi ero messo lì e tu cioè vabbè no alle hack gold guard guardo io aspetta dammi il secondo secondo me ha le hatch guardo subito aspetta non adesso ma vedo che ti stanno inseguendo in pochi magari è solo pino è vero come lo trovate io sto andando da sto lasciando i gialli boh si sono spaccati il ponte perché sono labbi spostati a reddy madò a reddy mi hai vlog clicciato chi viene con me dai gialli a reddy mi hai ucciso raga dai gialli help ah e sono buono non ti dico niente perché mi ha portato tante zucche oggi dai come sono bravo sono morto ma ho spaccato il letto i gialli io lo rapporto tu ma te nessuno ti pensa blu perché tu non allora prendi esempio da blur ecco blu conosci blur ma c'è qualcuno dietro ok si blu ti sta stuprando girati girati e buttamelo addosso vai no ho perso 5 cuori di nuovo non troppi ma questi smeraldi li hanno già presi l'ha lasciato su poverino non ho più blocchi niente ma sti gialli come sono messi giusto io ho spaccato il letto non il no comunque guardia non ha che l'ho roto lol no non è che blu lasciamo i materiali io ti lascio le zucche aim assist secondo me ma che hai aim assist oddio l'ho detto solo per farlo pronunciare ogni su io so shish shish quando non sai qualcosa dunque sono detto aim assist oddio all'arco questo l'ho uccido no sono caduto sotto blu aspettami no devo ucciderlo raga in tre si però grazie sono eh vabbè io non riesco a fare un punto blu sono dietro di te no vai io sono andato dei verdi ho ucciso due gialli due gialli non ce la fanno arrivare in mezzo no io devo andarmene vabbè finisci la tanto adesso è finita no no guarda adesso la finisco no no blu no stavo spero nella bardatura dei verdi sai che hanno l'arco vero si la so hanno l'arco ma non so usarlo cioè sono fatto io ho bildato fino alla senza che mi colpisse guarda guarda ancora eh oh ci dicono quell'arco renditi utile deve sacrificarti guarda non riesce mi serve oh spostati ma fai così no ora faccio del legno sono anch'io comunque così mi chiudo nella bardatura eh zio sulle bandiere avete fatto raga venite è un attimo eh buttati sotto ma svegliati tra un po' io ciao oh vai ola raga stai seguendo me a mezzo cuore lo sapete che ho rotto due letti ma che bravo lo sai che io ho fatto 6 kill e ho distrutto un letto quello non ti dà i punti degli achievement ma che ci frega ma che ci importa è blu dai questa è clivata in bio lo killo mori mori ho una zucca blu ho tante zucche quante quante una due tre ti odio full team si io vado la vita buonanotte buonanotte